allora signori buonasera oggi sono stanco anzi siamo stanchi maggiormente io perché ho ricevuto non so quante telefonate quindi il cervello è andato in dirto oggi allora dalle 7 stamattina abbiamo appena finito di consegnare i pacchi siamo andati oltre quello che potevamo penso che penso che veramente ne abbiamo fatti tanti 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 davvero siamo arrivati a 149 e altre due o tre o da consegnare domani allora 149 pacchi distribuiti quasi in maniera equa perché ieri ne abbiamo distribuiti una trentina oggi il restante fino ad arrivare a 146 perché tre io a terra qui o cosa voglio dirvi vuole dirvi che questa mattina avevamo a terra mezzo mezzo capannone di merce pieno 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 oggi ne abbiamo un terzo è rimasto qualcosina qualcosina è finita infatti stamattina abbiamo fatto delle buste eque fino alle nove poi dopo il grande ingrosso di orto frutta miale in via pricena faccio pubblicità perché lo merita merita la pubblicità ci ha scaricato un bel po di frutta e verdura il tempo di fare le cassettine e questa mattina abbiamo fatto oltre al solito pacco che arrivava la gente anche una cassettina di frutta e verdura fino alle 12 12 e mezza quindi abbiamo cominciato a consegnare stamattina la gente ha ricevuto il pacco e anche la cassettina di frutta e verdura siamo rimasti un pochettino scontenti quando poi questa frutta e verdura è finita perché i pacchi erano le cassettine erano eque per tutti però avevano un limite ne abbiamo fatte una sessantina con la verdura e la frutta poi il buon cuore di gesù ha fatto in modo che la chiesa cristiana evangelica la comunità della chiesa cristiana evangelica di sansevero ci venisse a portare un bel po di roba a livello igienico allora abbiamo deciso di fare le stesse buste per gli alimenti e implementavamo il tutto con una busta di materiale igienico e siamo arrivati a terminare quasi del tutto il materiale igienico che la chiesa cristiana evangelica aveva portato siamo stanchi perché sono tornato dieci minuti fa ho fatto le ultime tre consegne dieci minuti fa sono rientrato sono stanco sono le nove circa quindi veramente è stata una giornata pesante risposto ho cercato di aiutare tutti ho risposto a tante telefonate abbiamo dato i pacchi in base al numero di persone c'erano nuclei familiari un po più corposi e nuclei meno corposi i prodotti erano sempre gli stessi solo che abbiamo aiutato la gente con più bambini con più persone in casa e abbiamo messo qualcosina in più ma stessi prodotti per tutti non ho capito io allora io voglio fare un ringraziamento ringraziamento ancora una volta